Al via la seconda edizione di Parole in Circolo. La Sala L'Annunziata di San Giovanni Valdarno ospiterà tre appuntamenti dedicati alla musica, al teatro e alla poesia, il primo dei quali in programma è la prossimo 14 aprile. Una nuova rassegna di iniziative di cui siamo molto contenti e soddisfatti e si svolgerà la Sala L'Annunziata a San Giovanni Valdarno, in via Giovanni da San Giovanni, organizzata dall'Associazione Paro Paro, un'associazione soprattutto di giovani talenti che noi abbiamo supportato e sostenuto in questi cinque anni con grande piacere e che ci ha abituato a varie tipologie di iniziative e di spettacoli, sia quelli legati al divertimento ma come in questo caso a tre appuntamenti legati al teatro, alla poesia, di riflessione, soprattutto sui temi importanti della pace in un momento e in un contesto così difficile. Quindi io invito tutti San Giovanni e Senon a partecipare a queste iniziative, ringrazio naturalmente l'Associazione Paro Paro, l'Associazione Diesis Teatrango che ha collaborato per uno di questi tre appuntamenti e naturalmente tutti gli artisti che si esibiranno. Gli artisti di scena ogni volta sfrutteranno l'arte teatrale per collegare tra loro le canzoni e le poesie per veicolare i temi fondamentali quali la pace e l'amore. Da quando abbiamo inaugurato la sala gli eventi sono stati numerosi e particolarmente quest'anno, dall'inizio dell'anno purtroppo abbiamo dovuto anche negare qualche spazio perché già i tempi erano già tutti occupati le disponibilità erano già tutte occupate e anche per i mesi prossimi c'è già un ricco programma di utilizzo della sala.